Ciao a tutti, sono Cristiano di Vicenza Ciao, io sono Daniela Ciao, sono Andrea Mollosato al Dream È la quarta volta che veniamo qui Quarta volta che veniamo Bella location Il villaggio è fantastico Mi sono andato molto bene con la struttura, con l'animazione, con tutto I ragazzi animatori non ci sono parole Niente, vacanza spettacolare, animazione alla grande La location è perfetta C'è anche un evento Venga qua Venga da Max, Prokait Academy Ciao, devo dire, la vacanza è pessima Il mare è brutissimo, un sport Il mare è stupendo, ha la camera anche No, meraviglioso Il mare è stupendo Quindi meglio di così non poteva essere anche per un segno o due Mi sono divertito, ho sudato Super felice, molto, molto felice È stato bellissimo Ce ne vogliamo cantare Come mettere animatori, sono veramente bravi Un applauso al grande Enrico Il dizionario vivente Sotto a tutti A ottobre ci si rivede Ciao Sicuro Ciao 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 Grazie di fuori a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti